Ciao a tutti, buona giornata. Ho in mano il telefono. Quando parli con gli altri, a volte non sei connesso. È come quando tu trovi qualcosa come il telefono occupato, fa tu, tu, tu. A volte quando io parlo con gli altri, in realtà parlo con me stesso. Il telefono mi dice tu, 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 non sei in comunicazione con gli altri. Mi piacerebbe che oggi il mio telefono, cioè il mio rapporto con gli altri, mi possa dire io, io, io. È l'altro che mi parla, l'altro che dice il suo io e io lo accolgo. Io vi faccio un augurio incredibile che con il Signore e con gli altri possiamo parlare aprendoci, accettandoci, tutti, sempre, ogni giorno. Buona giornata.